margherick ...verberi di religiosi, nel gremmo Re Maria Rupo Saste, 33 anni, pur comunista, sembra la ferro di Prere Casta, quando eri piccolini, chi aveva spazio a cui a te fanciullo in compagnia, non mette le legne sante di peglia, 3.000 crocetti tu faciste, ne faciste una lunga e bella con un croccio in cielo nato in terra, con la mamma gli diceva i comandi, figli, che ne fai su croccio? Parla una legna supplicante, questo è quanto sperava la vita mia, mamma mia, piccola e grande, quando in giù ne sono, la valle è tutta accesa, la mamma dice a San Giovanni, con una voce su io parlando, con un libro di religione, peccatore e peccatrice, chi sa, che non lo sa, se la dà un barato, non dà un morto, noi saranno a due giornate, perché le dà un barato? Chi si dice tre volte la sera, dà venire a vedere, chi si dice tre volte la notte, dà liberare una mala morte, chi si dice tre volte la mattina, dà liberare ogni male cammino, chi si dice che la chiesa è consagrata, ma dice e cancella tutti i nostri peccati. Ecco.